Un grosso pezzo di marmo della fontana presente nella centrale piazza incontrada Moio ad Agropoli si è staccato finendo a terra. È successo nella serata di ieri a segnalare quanto accaduto una cittadina residente del posto e membro del comitato rione Moio. Questa sera dei ragazzi hanno fatto in modo che un pezzo della fontana si staccasse. Fortunatamente nessuno si è fatto male, anche se per pura fortuna. Parliamo di minori. È quanto scrive sui social Alessandra segnalando il tutto all'Agropoli Cilento Servizi. Sono sempre più episodi simili che purtroppo avvengono un po' dappertutto, oltre agli schiamazzi fino a tardanotte proprio da parte di minori, senza nessun rispetto e controllo da parte delle famiglie. All'inizio del mese di agosto un episodio simile a ciò che è avvenuto in Contrada Moio si verificò nel comune di Casalvelino. Due minori vandalizzarono l'altare posizionato presso la cappella di San Matteo provocandone la rottura.